Oggi è una giornata perfetta per correre, il sole splende e le temperature sono miti, la maggior parte dei piloti ha scelto senza esitazioni di montare gomme medie sia davanti che dietro. Salve Papoferi, Papoferi e bentornati in questo nuovo video. In questo video siamo sul MotoGP24, siamo a sashering tutta odiosa per me, le prove libere sono andate bene, le qualifiche sono andate male, quindi parto diciottesimo. Sashering, medie all'interiore, medie all'interiore, medie all'interiore, 3, 16, 2, 18, inizio della gara. Qui a sashering è tutto pronto per l'inizio della gara, concentrazioni al massimo, su questa pista è fondamentale non perdere posizioni in partenza, prima dentro, gas a martello e andiamo. E prima dentro, gas a martello, via, via, Papoferi. E' un pochettino un moto arancione. E' un pochettino, inizio di liti. Sì, non è vero. Grazie a tutti. 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 Bene.